Douglas Costa sta tornando alla Juventus a costo zero? Va bene, tifoso juventino. Assicuratevi di iscrivervi per non perdervi le ultime novità del nostro amato la vecchia signora. Recenti voci suggeriscono possibili ritorni di giocatori che hanno già vestito la maglia della Juve, hanno preso il sopravvento nelle ultime settimane. Queste voci suggeriscono che la Juventus stia considerando di riportare alcuni dei suoi ex giocatori per rafforzare la squadra. Tra i nomi speculati ci sono Mattiges de Light e Federico Bernardeschi, ma anche un altro ex giocatore della Juve è oggetto di speculazioni. Il brasiliano Douglas Costa, che ha giocato alla Juventus dal 2017 al 2022, ha concordato la sua uscita di comune accordo con il club americano La Galaxy e ora è libero sul mercato dal 23 ottobre. Nelle ultime ore, il nome del brasiliano ha iniziato a guadagnare popolarità sui social media per un potenziale ritorno alla Juventus, ma, a differenza di De Light e Bernardeschi, chi desidera il ritorno di Douglas Costa non è la dirigenza bianconera, ma i tifosi. I tifosi della Juve stanno chiedendo di riportare il brasiliano, ma nonostante le richieste dei tifosi, è improbabile che questo cambiamento avvenga a causa dei numerosi infortuni subiti da Douglas Costa durante il suo soggiorno a Torino, che non ha lasciato un'impressione positiva, oltre al fatto che ha 33 anni. Ma tu, tifoso juventino, sei favorevole al ritorno di Douglas Costa? Sostieni questa idea?